Lo scorso 28 settembre, Fedez è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Fatebene Fratelli di Milaino a causa di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Dopo diversi giorni di apprensione, poi, venerdì 6 ottobre, il rapper è stato ufficialmente dimesso e piano piano ha iniziato a riprendere in mano la sua vita. Il cantante ha documentato il ritorno a casa sul suo profilo Instagram e tutti hanno potuto vederlo alle prese con i suoi bambini, Leone e Vittoria, ma anche con esami vari per tenere sotto controllo il suo stato di salute. In tutto ciò, è rimasta una grande domanda in sospeso. Fedez riuscirà ad essere presente a di live del programma, infatti, partono ufficialmente il prossimo giovedì, 26 ottobre. Sin dall'annuncio delle sue dimissioni, in tanti si sono chiesti se Federico sarebbe stato in grado di partecipare alla diretta. La sua presenza è rimasta in sospeso per tanto tempo e si erano anche iniziati a diffondere i nomi di suoi possibili sostituti. Appena uscito dall'ospedale, il marito di Chiara Ferragni aveva dichiarato di dover aspettare per sapere se i medici gli avrebbero permesso di prendere parte alla trasmissione. Ebbene, proprio ieri, 18 ottobre, Fedez ha finalmente annunciato la tanto attesa notizia. Sarà presente ai live di X-Factor. Oggi sono andato a fare la visita di controllo e mi hanno fatto il certificato medico per poter partecipare ad X-Factor, ha dichiarato in una live Instagram fatta ieri sera. Dunque, il prossimo giovedì rivedremo nuovamente Fedez seduto dietro il tavolo dei giudici del talent show di Sky 1. Intanto, questa sera, 19 ottobre, andranno in onda i cosiddetti, Home Visit, durante i quali i quattro giudici, Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan, trascorreranno alcune ore con cinque aspiranti concorrenti, così da poter scegliere al meglio i tre finali da portare con loro. Con Fedez ci saranno Lorenzo Bonfanti, Sara Sorrenti, Giulia Petronio, Maria Tomba e Asia Leva.